take it easy take it slow we can do it just like before so take it easy take it easy ragazzi volete vincere skin o altri oggetti dallo shop di fortinet tutto gratuitamente da parte mia basta seguire tutti questi semplici passaggi che vi metto qui alla mia destra iscriviti e attiva la campanellina o commenta con il tuo id su fortinet qua sotto nei commenti in modo che poi potrò estrarre alcuni di voi che avranno fatto i passaggi lascia like e condividi il video con tutti i tuoi amici guarda tutto il video e infine seguimi su instagram cecchinato trattino basso tv e a raggiungimento ragazzi di 200 like sotto questo video dai commenti vall'appunto estrarò delle persone che avranno eseguito tutti questi passaggi e infine gli regalerò un oggetto su fortinet detto questo non c'entra assolutamente niente con i regali quindi non è un passaggio obbligatorio a fare però qualora voleste potete supportarmi nello shop con il mio codice cecchinato nato detto questo vi lascio al video buona continuazione ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono cecchinato e oggi ragazzi siamo in unissimo video su fortinet per la previsione del negozio oggetti di domani 6 febbraio 2021 ma prima di iniziare se non siete ancora iscritti iscrivetevi con la campanellina lasciate un bel like condividete questo video con i vostri amici e se ancora non l'avete fatto seguitemi anche su instagram cecchinato trattino basso tv detto questo vi ricordo anche di commentare qua sotto tra i commenti con cosa vorreste nel negozio oggetti cosa pensate insomma che possa uscire domani detto questo direi che possiamo subito incominciare con la nuova previsione di domani prima però come sempre andiamo a vedere il negozio oggetti di oggi 5 febbraio perché abbiamo indovinato praticamente tutto il negozio oggetti innanzitutto sono usciti come avevo detto i giocatori del football americano insomma l'avevo già detto i big games eccoli qua insieme a tutto il loro set con gli arbitri eccoli qua 800 bucks per loro abbiamo indovinato il set dei dinosauri versione cubo molto molto carini abbiamo indovinato bruma anche la skin da 1200 bucks e poi abbiamo indovinato sia jonesi in questa versione e sia la skin insomma tutta luminosa con i led appunto con il secondo stile rosa iniziamo ragazzi subito come sempre dalla zona in evidenza i primi due bundle che voglio mettere come possibile uscita di domani sono esattamente sempre il set tempesta che vedete proprio qui con la skin ovviamente sia da 2000 bucks che quella da 800 versione femminile e poi metto anche il set ovviamente dell'angelo insieme all'ossacchiotto rosa siccome si sta avvicinando san valentino ha molta probabilità di uscire presto nel negozio oggetti prossimi due set sono il set omen quindi queste skin insomma da 1500 bucks versione scura molto molto carini non escono da 30 giorni per l'esattezza quindi potrebbero ritornare presto insieme anche al set di mida versione insomma corazzato da 2000 bucks poi abbiamo il set del capodanno cinese siccome si sta avvicinando questa nuova festività che sarà per l'esattezza il 12 febbraio se non erro ci sarà questo capodanno cinese quindi arriveranno insomma nel negozio oggetti tutte le skin inerenti insomma al capodanno cinese quindi non solo queste due che vi sto facendo vedere ma tantissime altre che sicuramente conoscerete e poi ragazzi metto infine il set di Travis Scott che ormai conosciamo benissimo dovrebbe presto arrivare attualmente non abbiamo novità quindi aspettiamocelo comunque presto nel negozio oggetti passiamo adesso ragazzi ai set possibili uscite quindi le skinny bundle che potrebbero uscire sia domani o comunque nei prossimi giorni barra settimane i primi due bundle sono il robot dell'evento della stagione 9 1600 V-Bucks per lui con il ballo integrato dovrebbe presto arrivare insieme anche al set del pesce secco 1200 V-Bucks più l'intero set i prossimi due set invece sono il ninja robot quindi sia la versione maschile da 1500 V-Bucks poi l'altra femminile da 1200 più ragazzi anche il set anzi la skin di scatenata 800 V-Bucks per lei passiamo adesso ai prossimi due set che sono il set infinito questa skin molto carina da 1500 V-Bucks non fa la sua comparsa se non erro da quasi 40 giorni comunque dai 30 ai 40 quindi ha molta possibilità insomma di uscire insieme anche alla skin di questo coniglio insomma versione tutto luminoso 1500 V-Bucks anche per lei passiamo adesso ragazzi ai prossimi due set che sono il set di Shifu quindi una skin veramente che non esce da tantissimo tempo più di 200 giorni siccome si sta anche avvicinando il capodanno cinese sicuramente arriverà al costo di 1200 V-Bucks insieme anche al Leviatano 2000 V-Bucks per lui con ovviamente l'intero set i prossimi due set sono il pack del content creator dell'anzi content creator che vedete proprio qui il pack insomma con l'angelo versione femmina 1500 V-Bucks ovviamente per la singola skin poi ci sarà ovviamente il restante del set della content creator che se non sbaglio sta sui 2000 V-Bucks 2004 circa quindi se volete prenderlo insomma tutto e poi metto anche il bundle ovviamente di Sculli in occasione di San Valentino molto presto arriverà i prossimi due set invece sono Fenix la Volpe 1200 V-Bucks anche lui dovrebbe presto arrivare non esce da quasi 40 giorni quindi sicuramente arriverà presto insieme ai set insomma del motociclista versione sia femminile che maschile da 1500 V-Bucks il prossimo set ragazzi sono quelli delle due skin con la maschera a teschio 1200 V-Bucks insomma le conosciamo benissimo presto arriveranno manca veramente poco alla loro uscita siccome l'ultima volta che le abbiamo viste erano tra il 10 e il 14 mi sembra quindi molto presto aspettatevele presto nel negozio oggetti insieme ragazzi al set dei scatoloni 800 V-Bucks per tutti e due e l'ultima skin non può mancare quella del cagnolino 1500 V-Bucks per lui con ben tre varianti disponibile con l'acquisto di questa skin quindi molto presto la dovremo vedere dato che non esce da più di 30 giorni passiamo adesso ragazzi alla zona giornaliere le prime due skin che voglio mettere come possibili uscite sono esattamente queste due la skin subacquea la conosciamo skin vecchissima da 1200 V-Bucks insieme anche alla skin Adeline in inglese ovviamente il nome in italiano non mi ricordo bene come si dica però comunque presto arriverà nel negozio oggetti con questa tuta verde barra nero molto molto carina da ben 1200 V-Bucks i prossimi due set sono i soldati della stagione 4 versione metallo insomma molto carini presto dovrebbero ritornare finalmente nel negozio oggetti insieme anche alla skin che vedete proprio qui che risale alla stagione 1 parra 2 del primo capitolo ovviamente stiamo parlando della colonnello insomma versione femminile la prossima skin invece è questa da 800 V-Bucks insomma la conosciamo ormai tutti benissimo presto dovrebbe arrivare nel negozio oggetti a 800 V-Bucks le ultime due skin sono quella sempre della skin del sushi 1200 V-Bucks che dovrebbe anche lei molto presto arrivare insieme a sempre centro 800 V-Bucks per lei per quanto riguarda i picconi metto esattamente solo bacchetta stella per il semplice motivo che non ci sono altri picconi che dovrebbero uscire quindi per il momento solo bacchetta stella 800 V-Bucks per questo piccone che non esce da circa 20 barra 25 giorni per quanto riguarda i balletti invece metto questi alti 3 detto questo ragazzi noi ci vediamo domani sempre con i nuovissimi video vi ricordo il video news di oggi molto interessante parliamo di Bruma un nuovo stile gratuito per tutti ovviamente i possessori della skin andatelo a vedere e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video su fortnite bella e noi ci vediamo Grazie.